Dopo lo smantellamento di qualche giorno fa del Corpo Forestale dello Stato, ora si sta avvicinando la scadenza per lo smembramento di un altro corpo di tutela ambientale, ovvero quello della Polizia Provinciale. Il 31 gennaio prossimo sarà infatti l'ultima data utile per inserire gli agenti della Polizia Provinciale nel portale della mobilità, dal quale potranno attingere tutti gli enti pubblici. Su questa tematica il Movimento 5 Stelle Liguria ha proposto una modifica alla legge regionale affinché l'intero corpo, costituito da 81 agenti provinciali, quindi un numero già di per sé esiguo per un territorio come quello ligure, sia interamente mantenuto in capo alla regione, come già accaduto in quasi tutto il resto d'Italia. Gli esponenti del partito di Beppe Grillo hanno chiesto che venga al più presto calendarizzata in Commissione 1 senza aver avuto per ora conferme in tal senso. In Liguria il Corpo di Polizia Provinciale sta per essere letteralmente annientato, ne rimarranno forse 24, denunciano i grillini. Chiediamo una risposta concreta dalla maggioranza, altrimenti saranno complici anche loro del processo scellerato voluto dal Governo Centrale del Partito Democratico. Noi da parte nostra, proseguono dal Movimento 5 Stelle, continueremo fino in fondo questa battaglia per mantenere vivo questo indispensabile presidio per la lotta alle eco-mafie, al bracconaggio e per la tutela ambientale della Liguria. Già altre critiche erano state lanciate al Governo Renzi per l'azzeramento dei 194 anni di storia del Corpo Forestale dello Stato.